Quando si parla di ragazze di lavoro ci vuole tantissima concretezza perché le parole sono stanche. Noi come Comune di Napoli abbiamo vissuto una straordinaria esperienza di successo formativa. Abbiamo attivato i tirocini garanzia giovani e questi hanno dato vita a sei mesi dove i ragazzi sono stati formati all'interno degli uffici comunali in materie altamente strategiche ma anche molto competitive. Ed ora abbiamo dato vita ad un career day, un incontro con aziende del territorio. Più di 15 realtà territoriali hanno risposto ed oggi stanno incontrando i nostri tirocinanti affinché quell'esperienza formativa ora non sia messa e chiusa in un cassetto ma possa diventare un'occasione concreta di lavoro. È il primo career day esclusivamente dedicato ai giovani che hanno svolto il tirocinio formativo negli uffici del Comune di Napoli fino allo scorso giugno. È la prima iniziativa nel suo genere. Si svolge nella sala del capitolo del complesso monumentale di San Domenico Maggiore ed ha lo scopo di accompagnare i giovani nell'inserimento lavorativo e nella certificazione delle competenze da parte di aziende private grazie al programma Garanzia Giovani. Il caso del Comune di Napoli è un caso di successo e ci auguriamo che questo modello possa diventare un esempio anche per altre realtà. Con questa porta che si apre alle aziende del territorio e al recultamento di curricula di qualificati grazie alla formazione del Comune di Napoli ora noi diamo l'avvio ad un nuovo piano per le politiche giovanili dove la parola lavoro con i fatti e non soltanto con le parole deve essere portata a misura di ragazzo.